Avete sentito? Stanno facendo i provini per andare all'isola dei famosi! Ragazzi quando stiamo facendo il scusatello per la televisione, una polla, una fama, insomma praticamente la gente mi ha fatto messa via e voi sapete poi vado a fare 100 provini per tutto e basta e là quando stavano i provini a Stivo Pino, io lo avevo buono, non so per se L'altro giorno mi è arrivata una telefonata a casa al momento e mi stavo venendo una cosa Pronto oggi? Ti chiedi pronto? Sono Della Torre, quella della televisione, signor Leonardo, quando venite? Signor Della Torre, allora già venite a Napoli, la sede di Roma Ma cosa vuole venire? Vole venire a basso sul laboratorio, su Della Torre, la radio tecnica, questa televisione vuole venire a ritirare, che hanno già fatto tutto nel cabasso Che figura è merda!